Quello tra il canale e Decathlon è un viaggio che sta proseguendo a grandi falcate e anche oggi daremo spazio a una palla del brand Quickman. Posso dire che, avendo recensito diverse pale della linea 990 dall'apertura del canale, ora abbia un quadro piuttosto completo di tutte le loro racchette e anche delle loro qualità. Se navegate nel canale potete trovare dalla Power Hard, dall'Hybrid Hard, dalla Precision Soft alla Precision Hard, mentre oggi parliamo della Quickman Hybrid Soft, una pala che strizza l'occhio a un ampio spettro di giocatori di padel e potrebbe fare anche al comodo vostro. La linea Quickman è sempre di sicuro interesse e vi parlerò anche di un servizio molto interessante e poco replicato che Decathlon fornisce a tutti i suoi clienti. Vi ricordo che per supportarmi è molto semplice, basta iscriversi al canale e lasciare un like al video. È un modo del tutto gratuito che vi costa pochi secondi, ma che per me è fondamentale per far sempre di più crescere questo progetto. Ma ora vediamo se questa Hybrid Soft è la racchetta che stavate sognando. La Quickman Hybrid Soft è una palla a forma a goccia con un bilanciamento medio a 26,5 cm e un peso che varia dai 357 ai 367 grammi, con la nostra che pesa 358 sempre senza l'accetto. Per completezza devo dirvi che l'accetto Decathlon aumenta di ben 11 grammi il peso della pala, se lo conteggiate. La composizione è di tre strati di fibra di vetro e uno di fibra di carbonio 12K intrecciato ad alta qualità. La gomma è una EVA Soft che strizza l'occhio al controllo. Anche in questa ritroviamo le caratteristiche che c'erano anche nella Precision Hard e nella Power Hard, ovvero stiamo parlando del telaio in carbonio Twin Tube che aumenta la rigidità e riduce la torsione. Abbiamo la Rough Surface, ovvero una superficie ruvida che favorisce gli effetti sulla pallina, e il sempre utilissimo TPU Protector, ovvero un protettore in plastica che protegge la testa della racchetta da eventuali gusti. Ma cosa rende unica questa linea di racchette? In realtà sono due le cose che le rendono uniche. La prima è il prezzo. I 99€ di tutta la linea 990 sono un saldo assoluto, perché la qualità è ottima, l'ha resa anche, e con un prezzo contenuto diventano automaticamente dei best buy per ogni tipo di giocatore. Ognuno può trovare la sua nella linea 990. Possiamo dire che dall'attaccante al ragionatore, chiunque può trovare la sua qui. Il secondo è la possibilità di provarla, perché con il servizio di rental fornito da Decathlon avete la possibilità di provare ogni racchetta per un periodo e capire se è quella che fa per voi. In caso contrario, la restituite e virate su un'altra. I prezzi variano dai 2 ai 3€ per U, dagli 1 ai 3 giorni, a seconda ovviamente se siano pale intermedie o per esperti, fino ad arrivare a 8 o 10€ per la settimana, 21 o 25€ per un mese, 39 o 69€ per addirittura lo stagionale. I costi sono assolutamente competitivi. Potete organizzare un paio di partite in 3 giorni e farvi un'idea precisa. Con soli 3€ potete evitare di spenderne 100€, o magari anche di più, per una racchetta che non fa per voi. Vi esorto, a prescindere da questo servizio esclusivo di Decathlon di Rental, a provare le racchette prima di comprarle in ogni casa. Se ne avete modo, fateci qualche scambio, set o anche partita. Come vi ripeto sempre, non c'è la racchetta giusta in assoluto, ma quella adatta al vostro gioco. Questa racchetta ha caratteristiche ben definite. Innanzitutto, la gomma Evasoft vi permette di avere una buona uscita di palla e un ottimo controllo sui vostri colpi. Mi sono trovato molto bene in quelli di precisione, sia vicino alla rete che in quelli da fondo campo. La sensibilità che trasmette è molto, molto buona. Di contro, ovviamente, la potenza gratuita non è da stropicciarsi gli occhi. Dovrete spingere molto e attaccare per chiudere solo nelle palle davvero comode e davvero giuste, perché dovrete metterci del vostro per essere veramente potente e risolutivo. Altrimenti, rischiate di esporvi al controgolpe risolutivo dell'avversario, cosa che non vi consiglio. Nelle situazioni più difficili, però, vi aiuta a uscire dalle secche, perché vi dà una gran mano a far salire i pallonetti, a bloccare colpi particolarmente potenti degli avversari e far salire bene la palla in uscita di parete, magari dovendo rispondere a palle lavorate e piuttosto basse. Il cordino è il classico di Decathlon con polsiera, che però tende a bagnarsi un po' con il sudore e anche a deteriorarsi presto nei pressi della base del manico. Nel complesso, questa racchetta però può abbracciare diversi tipi di giocatori, avendo caratteristiche piuttosto facili da comprendere. La sensibilità e il controllo in questa racchetta sono sicuramente i punti forti. Se volete essere in pieno possesso dei vostri colpi di precisione, fa assolutamente per voi. Che essi siano cichite o voli di tocco, vi darà grandi soddisfazioni e vi aiuterà molto anche nei colpi dove siete messi un po' più sotto pressione dagli avversari. Uscire dagli angoli o da situazioni difficili lo sarà un po' meno. La gomma eva soft e una buonissima uscita di palla vi aiuteranno ad alzare pallonetti con grande, grande facilità. Potreste andare lunghi e profondi, apparentemente senza sforzi. Ho trovato anche molto efficaci i colpi in opposizione, i bloccheo, che restituivano un'ottima risposta alla potenza impressa all'avversario. Di certo potrete alzare la palla con grande qualità e guadagnare la rete nelle migliori condizioni. Come sempre il prezzo di queste racchette è un plus. Qualità costruttiva, costo assolutamente abbordabile e possibilità anche di provarla sono un mix perfetto. Ma già lo sapete se avete visto le altre recensioni della linea Quickma e se non l'avete fatto ve ne lascio una qui nelle schede. Nella potenza ovviamente la racchetta pecca abbastanza, non ha grande spinta gratuita, non vi farà uscire petardi per il solo fatto di aver colpito la palla dall'alto e dovrete essere molto precisi nell'esecuzione. Il consiglio che mi sento di dare con questa racchetta è di andare dentro e spingere di potenza solo sulle migliori palle a vostra disposizione. Se forzerete e cercherete un po' di aiuto a livello di potenza è probabile che vi esporrete al contrattacco dei vostri avversari. Selezionate molto bene le palle da bombardare. In conclusione questa è una racchetta adatta al giocatore di destra che ama costruire il punto e avere un'ottima sensibilità per i colpi di controllo, lob, cichite ecc. Se amate lavorare il punto più che chiuderlo, la Quikma Hybrid Soft può darvi diverse soddisfazioni. Che penso che per fare il primo step up dalla vostra prima palla sia perfetta. Ma come detto altre volte, Quikma nella linea 9,90 produce palle tutt'altro che entry level, di alta qualità. Vedremo se le novità che cominciano a filtrare per l'anno 2023 cambieranno questa filosofia. Si parla di prezzi in aumento, ma per ora sono solo indiscrezione. Di certo, per ora il rapporto qualità-prezzo è tutto in mano a Quikma, anche con questa pala che ha pregi e difetti ben delineati. Vi ricordo che potete acquistarla, come tutta la linea, qui nel link in descrizione. Ma se entrerete in questo link e navigherete per comprarvi un tapirulano, un acicletto, qualsiasi altra cosa del catalogo, lo farete aiutando il canale. Quindi per qualsiasi acquisto della linea Decathlon dobbiate fare, sfruttate questo link e sosterrete questo progetto. Se state giocando con la Quikma Hybrid Soft o avete avuto esperienze, fatemelo sapere nei commenti e condividetelo con la community. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire qualcosa di più di questa racchetta. E se avete altre domande, fatemela avere con un rulo all'aretto. Ciao! 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 Ciao!